Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, come potete immaginare io sto registrando praticamente di fila. Nello scorso video abbiamo praticamente fatto il mob spawner per quanto riguarda la stock un labedrock per i miru, quelli verni, che però ho guardato ragazzi ma sembra che non spona ancora niente, quindi vediamo. Ci proveremo e vediamo un po'. Una cosa che io adesso volevo fare è andare a vedere dove fare il mob spawner per quanto riguarda gli esseri per l'Arkstone con il diamante, però ci servono delle bombe di ghiaccio perché ne abbiamo pochissime. Allora io direi di fare questo. Andiamo subito a vedere, le bombe di ghiaccio sono qua e ci serve il cubo, il ghiaccio e la polvere da sparo. Andiamo nei drop. Nei drop dobbiamo andare a prendere i cubi. Poi di code perché ne abbiamo solo una, quindi andiamo a prendere le code. Andiamo a prendere il nostro ghiaccio qui che ci serve, che è questo, perfetto ragazzi. Ok, allora potremmo anche fare il ghiaccio. Ok? Che non è difficile. Allora, volevo anche provare a fare un'altra cosuccia. Intanto facciamo così, guardate. Andiamo a posare... Ah, dobbiamo prendere anche la polvere da sparo, esatto. Siamo qua, quindi andiamo qua, prendiamo la polvere da sparo e facciamo subito, immediatamente, le nostre bombe che ci servono. Quindi... Ok, perfetto. Dieci bombe di fuoco magari ci possono bastare. Proviamo ad andare a farne altre, vediamo un attimino quanto cosa ci viene, cosa ci costa. Se non sbaglio ci serve... dove sono? Eccoli qua. Ci serve altro, perfetto. Quindi possiamo andare a posare il ghiaccio. Ci serve la nostra polvere da sparo. Allora, andiamo un attimo nel drop. Quindi nel drop possiamo posare le nostre code blu, queste qui. Possiamo posare i nostri cubi, dove sono, che non ci servono più. Possiamo posare gli schifidors. Così. E così. Perfetto, ragazzi. Andiamo a posare anche questo di schifidors. perfetto. Perfetto. E andiamo a posare... Andiamo a posare... Vediamo un attimino... perfetto. Allora, dobbiamo prendere intanto le code queste qui. Perfetto. Possiamo andare a posare il nostro... Allora, andiamo a posare la nostra roba tipo... qua la stone, che non ci serve più. Andiamo a posare la nostra limestone, che non ci serve più. Andiamo a posare la nostra bedrock, che non ci... No, la bedrock ci può servire, ma prendiamo questa. Ok. E andiamo a posare la nostra sarcoc, che non ci serve più. Perfetto. Ehm... Ok. Andiamo un attimo a posare il ghiaccio e la neve. Andiamo a posare la nostra neve e il nostro ghiaccio, che non ci serve più. Andiamo a posare le nostre piante, queste. Perfetto. Ehm... Posiamo anche sotto questo. Ok. Ehm... Allora, ragazzi. Andiamo un attimo a di qui. Posiamo solo i blocchi, questi che non ci servono. E la terra ghiacciata la dovremo poi mettere nella... Ehm... Nella nature. Ehm... Terra. Allora, la mettiamo qua. Via. Ok. Ehm... Perfetto. Allora, andiamo a vedere un attimino cosa ci serve ancora. Ci serve l'uncino e la lava. Allora, nella lava dobbiamo andare qua. E prendiamo la nostra lava. Non ne abbiamo quasi più, ma la andremo qua a prendere. Ehm... Nel drop andiamo a prendere i nostri uncinacci ossa qua. No? sbagliato. Ma intanto posiamo questo. Questo qua. Perfetto. Così. Andiamo qua e facciamo così. Perfetto. Andiamo a riposare il nostro uncino. Ehm... Prendiamo queste bombe e le mettiamo qua. Così. Ehm... Ok. E, visto che ci siamo, posiamo le nostre code, che sono molto importanti. Ehm... Dove è nel momento siamo a posto. Ehm... Andiamo un attimo qua. Usiamo solo la polvere da sparo, che anche questa è abbastanza rara. Perfetto. Ok. Ehm... Ci siamo. Perfetto. Dovremmo... Ehm... Dovremmo esserci. Adesso andiamo. Ehm... Io spero, spero che il nostro TAR ci basti. Perché mi sa che ragazzi, dobbiamo andare a prendere dell'altro TAR. Eccolo qua. Allora, andiamo. Allora ragazzi, ci siamo, ne ho preso un po'. Proviamo adesso andare un attimino a vedere. Andiamo nella nostra Mob Spawner e andiamo a vedere un pochettino se riusciamo a fare questa cosa. Ehm... Speriamo solo che funzioni. Ehm... Allora, io direi ragazzi di provare... Qui qua ci siamo. Ehm... Di finire il nostro lavoretto qui. Allora, facciamo così. E incominciamo a mettere il nostro TAR. Ehm... Così. vediamo un attimino. Incominciamo. vediamo l'win Alzz pię a veits... to l'inforzamento window. delle cose prendere il nostro TAR. Ehm... Così... aviosti solo è uniforme. activity criminale ca e inizτα atlascendere il nostro Michele... Grazie a tutti. 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 Ci siamo. Ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.